È cominciato alla grandissima, una regata bellissima la prima, una partenza stupenda, siamo stati in controllo della regata tutto il tempo, non poteva cominciare meglio. La seconda regata anche siamo partiti molto molto bene, però non siamo riusciti a capire bene com'era secondo me la corrente. La corrente è stata un fattore molto importante nella seconda regata e ci siamo un po' persi.